Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati qui dalla vostra FireFamily, quanto vi siete mancati, mamma mia, sesto anniversario, come state, come stanno andando le cose? Io sto migliorando, piano piano, ho bisogno di ancora un po' di tempo, ma siamo qualche ricchissimi per questo sesto anni, abbiamo diverse pool da fare Io ovviamente mi focalizzerò su Gogeta perché è bellissimo, ci sono i Blue Boys e non vedo l'ora di provare a tornare anche questo pomeriggio Segnatevelo adesso in live, ok? Questo pomeriggio va in live alle ore 4, alle 16, ok? Quindi alle 4 vi faccio una bella live, non questa sera perché ci sono altre cosine che devo finire, ma oggi alle 4 Promessona, mega live e vediamo che cose riusciamo a pulare magari sul prossimo banner perché oggi ci focalizzeremo completamente su questo Allora intanto toglierei la musica perché non mi interessa E allora i personaggi sono meravigliosi, vi ricordo che trovate nella descrizione il gruppo Telegram Se volete scambiarvi i codicini con le sfere del drago e tutto il resto, tutti quanti i vari social E che sul canale main stiamo portando delle serie devastanti che stanno benissimo da tutto il canale principale Ma anche questo è il principale almeno in questo periodo del Legends Anniversary Numero 6 perché? Perché ci sono tantissimi nuovi contenuti che hanno pubblicato sul gioco E alcuni nuovi, altri un po' più old Ad esempio l'update delle gilde che volevo notando pubblicare Dov'è l'update delle gilde? Io non l'ho ancora visto E vabbè, no, non dico niente Magari è uscito e non l'ho ancora visto, può essere, non lo so Va bene dai, scherzi a parte, iniziamo le nostre pullate Il nostro obiettivo sono Goku e Vegeta Blue E noi non ci freniamo finché non li troviamo 50.000 Crono Crystal tenute da parte Vi metto il no skip, ci sarà ogni tanto il download in basso a destra Perché ci sono 4,5 GB di roba e dove mi trovo in questo momento la mia connessione fa cacare Quindi non ci penso nemmeno a scaricare tutto Ma con il fatto che si tratta di tutto da scaricare Dovremmo essere a posto, nel senso Dato che non ho mai scaricato niente Sarà tutto un downloading, quindi non dovremmo avere degli spoiler di alcun tipo L'unico spoiler poteva darcelo il no skip che abbiamo coperto Ed è un po' che non faccio vedere l'esamo ragazzi, da un sacco di tempo Vediamo un attimo che cosa troviamo Allora, io non so neanche cosa ci sia nel banner Perché voglio partire subito con calma Infatti avete visto che c'era il download all Su, cos'è, Krillin e altri 4 Cosi Quindi dovrà scaricare letteralmente qualsiasi personaggio Ma è abbastanza rapido a farlo Abbiamo un download di 3, 4 4 Nuova summon animation, pare Super Saiyan, signori Abbiamo Goku contro Freezer In questo sesto anniversario La nostra prima summon È andata malissimo Ma insomma non abbiamo ancora iniziato a spendere niente Non so neanche come comportarmi con la questione dei ticket Se devo spenderli adesso Se tenermeli per le live Non lo so Perché insomma voglio proprio fare una live con voi Quindi abbiamo il tapione Va bene Abbiamo il nostro Trunks Kiddo E... Mamma mia Gogeta ha sbagliato Purtroppo non è quello che stavamo aspettando Ma intanto va bene Come inizio Iniziamo a raccogliere A racimulare Qualche piccolo ticket Nel frattempo Che il nostro gioco Scarica Deve scaricare tutto quanto Perché è importante Però i Celi Verdi Non si fermano È un sesto anni dove Siamo tornati davvero All'Anamek Saga Dove Goku è ancora Rimasto lì fermo Staccato Alla forma Super Saiyan E non ha intenzione Di muoversi Da lì È rimasto lì Fermo Va bene Kale Non proprio la cosa Più interessante del mondo Una Pan Siamo tornati al DBL Del primo anno Dove uscivano solo Hero e Extreme E ogni Sparking Era leggendaria Va bene Per adesso ragazzi Non abbiamo ancora iniziato a spendere Ma Con questa multi Da mille Cristalli Noi ci assicuriamo Un buon posto Nel Olimpo Delle Extreme Che si stanno tutte scaricando Vedete Cioè insomma Il tempo di downloading È quello È quello Attenzione perché c'è Navicella di gioco Signori Navicella di gioco Non vuol dire assolutamente niente Ma Potrebbe Chi lo sa Magari di salvare Delle sorprese Nel caso in cui Voco diventi Attenzione Pull Rainbow Con Super Saiyan Blue Signori così Eh però non c'è Broly Ragazzi Attenzione perché c'è Vegeta Blue adesso Attenzione Oh Attenzione Attenzione abbiamo Un nuovo personaggio Sarà la Sparking Al 100% Sparking sicura La nuova Sparking Chi era la Sparking Di questo banner Era Beh adesso lo vediamo Chi era la Sparking Di questo banner Nuova Non era Gianemba Ragazzi Non era Gianemba Ma Eccoli Signori Goku È Vegeta Blue Subito Non abbiamo speso Nulla Let's go 5 minuti di summon Io ho rascosto Tutti i miei risparmi In queste settimane Per avere una copia Per avere una copia loro Adesso Che è subito Arrivata in 5 minuti Ne abbiamo trovati Istantaneamente Non abbiamo neanche Il personaggio nuovo Del banner Cioè abbiamo solo La LF Non abbiamo trovato Neanche la Sparking Benissimo Allora ragazzi Io direi che siamo a posto Allora concludiamo Il giro Perché è giusto così Insomma abbiamo un sacco Di crono Questa è una cosa positiva Per voi Perché vuol dire Che faremo più summon In live E a questo punto Non so se farla alle 4 O dedicarci Proprio una bella Seratona Alle pool Cioè tipo Serata pool Però sull'altro banner Mi piacerebbe Perché con calma Questo lo facciamo Eh Nani Vegeta blu Attenzione Incredibile Vegeta blu Due Sparking Teoricamente Dovrebbe essere Dovrebbe essere Due Sparking Questo Attenzione Perché potrebbe essere Back to back Subito così Pronti Con un altro Sparking Un altro paio di Sparking Dammi la Sparking No abbiamo chiuso Il banner E io gli do Tutte le zeta power A questo Goku Vegeta Anche se in realtà La sesta stellina Insomma La volevo trovare No vi dico la verità Dato che ha 3 stelle Insomma i personaggi Non è che mi fanno impazzire Attenzione Sparking È Goten Supercenter Vedete che Vegeta blu Non è che significhi troppo Va bene Andiamo a farci l'ultima Multiconsecutiva Un ritorno Con i fiocchi Ragazzi Cioè Ritorniamo E subito Con il vegetone Con il gogetone Vi fado a fare anche Lo showcase Già che ci sono Insomma C'ho C'ho tempo Quindi Per quale motivo Non dovrei farvelo subito Allora Ultimo Pullatone Della giornata Io i ticket ragazzi Non li spendo Me li tengo lì da parte Magari Adesso non so neanche Se ha senso prendere Le zeta power Perché tanto Nelle celebrazioni Nel periodo anni Ve le tirano dietro Come se non ci fossero domani Quindi Non dovrebbe essere Un grosso problema Va bene Qui arriva Vegeta Sicuro No Attenzione Super Saiyan 3 Così Perché giustamente Quando La trasformazione di base Non basta Abbiamo Alla Super Saiyan 3 Non abbiamo trovato Il personaggio Side Il nostro Broly Non lo so Una copia di Broly Mi piacerebbe trovarla Vegeta Vegeta Vecchio Attenzione Questo è Broly Questo è Broly No Questo è Mr. Satana Questo è Broly Questo è Broly No Questo è Super 17 Mannaggia Che Ha veramente Bucato il meta Ho visto Nell'ultimo periodo Ha fatto tante cose Va bene Ragazzi direi che con questo Possiamo concludere qua Abbiamo portato il Champ A 7 stelle plus Wow Attenzione Ora si che possiamo utilizzarlo Abbiamo concluso Già con il primo personaggino Ci rimangono La bellezza Di 46.500 Crono Cristal Le utilizzeremo Da qualche altra parte Non so se ha senso Portarvi un altro Videopool Su questo Ho fatto praticamente Solo un giro Cioè è stata Boh Velocissima E a questo punto Noi ci vediamo In live Questo pomeriggio E vi porto subito Allo showcase Istantaneo Di questo Goku e Vegeta Che si fondono Tipo alla velocità Della luce Così dopo possiamo Dedicarci all'altro Bannarozzo Va bene? Mi siete mancati ragazzuoli? Commentate perché Voglio sentirvi Voglio avere un po' Di effetto da parte vostra Perché ne ho bisogno E noi ci vediamo Questo pomeriggio E sul canale Con lo showcase Per altri video Ciao